In collaborazione con Antica Cantina di Canelli. Da oltre dieci anni amministrava immobili in diversi centri della provincia ed in particolare nel sud astigiano, ma era un evasore totale. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Asti. L'imprenditore, sconosciuto al fisco, gestiva numerosi immobili per conto di proprietari stranieri che vi soggiornavano solo durante le vacanze. L'amministratore provvedeva alla manutenzione delle case e al pagamento delle bollette di luce, gas e riscaldamento. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, per il suo impiego l'evasore percepiva annualmente dai 10.000 ai 22.000 euro. Complessivamente l'evasione ammonterebbe a circa 75.000 euro più 14.000 di IVA non versata. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale hanno arrestato Kerciu Alexandra, romena, 27enne residente ad Asti. La donna è stata fermata in via a Cavour ed in seguito ad un accertamento è stato scoperto che deve scontare tre mesi di reclusione per guida in stato di ebrezza. Meno casta, più lavoro, uguale 4 referendum. Riassume così l'Italia dei valori la sua iniziativa referendaria presentata ieri da Alberto Pasta nella sede del partito. Da sabato mattina, con un gazebo alla cima della scalinata di Piazza del Paglio, nel pomeriggio sotto i portici Anfossi, inizia la raccolta firma per indire il referendum. L'obiettivo è raccogliere 500.000 sottoscrizioni in tutta Italia per ciascun referendum. Sentiamo. In un paese in cui il problema più importante è il lavoro e l'onestà della politica, l'Italia dei valori propone all'attenzione di tutti i cittadini italiani e ovviamente anche ai cittadini astigiani, la sottoscrizione di 4 referendum. Due sul lavoro. In particolare, il governo Monti, come noto, ha abolito quella parte dell'articolo 18 che prevede la non possibilità di reintegrazione sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Noi vogliamo cancellare questa norma introdotta dal governo Monti, tornare all'originario statuto dei lavoratori per cui prevediamo con la sottoscrizione del referendum la obbligatorietà della reintegrazione sul posto di lavoro. C'è poi l'articolo 8 della legge finanziaria dell'agosto dell'anno scorso del governo Berlusconi che prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere derogati da contratti aziendali, noi consideriamo la cosa gravissima perché a questo punto non ha più valore il contratto collettivo di lavoro e si può derogare anche in tema di diritti dei lavoratori, chiediamo anche in questo caso che i cittadini vengano a firmare il referendum per reintrodurre la validità del contratto nazionale collettivo di lavoro. E poi abbiamo i due referendum anticasta, il primo prevede l'abolizione della diaria dei parlamentari, la diaria è quella somma in più che i parlamentari ricevono rispetto alla loro indennità, parliamo di 3.500 euro almeno, noi chiediamo che sia abolita e poi chiediamo l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti che dal 93 si chiama rimborsi elettorali. E' la stessa cosa, oggi come oggi i partiti non meritano un centesimo di soldi pubblici, chiediamo che i cittadini ci aiutino a fare in modo che questo diventi legge. Quante firme dovrete raccogliere qui nella Stigiano, qual è l'obiettivo? A livello nazionale sono 500.000 firme per ogni referendum, a livello locale dobbiamo raccogliere 50.000 in Piemonte, la nostra quota non la sappiamo ancora ma più firme prenderemo e meglio sarà. Per lo sport il tamburello si avvicina alla tanto attesa finalissima valevole per lo scudetto di Serie A. Il Caglianetto ha affrontato il primo allenamento della settimana ieri pomeriggio sul campo del Prospero Dezzani. Erano assenti due Manuel Beltrami, ancora bloccato a causa di una protusione cervicale, nonostante il giocatore abbia regolarmente preso parte alla partita di domenica scorsa, il suo utilizzo in campo è assolutamente impossibile. Ennesimo stop anche per Manuel Festi, sofferente per uno stiramento. L'allenatore Quinto Leonardi ha voluto tenerlo precauzionalmente a riposo. Gli esami clinici svolti presso la sede della Medicina dello Sport di Verona hanno però escluso danni gravi. Festi sarà dunque regolarmente in campo nella sfida contro il Medole di domenica, con inizio alle ore 14.30, sul campo di Castellaro Lagusello. E con questo anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e ci rivediamo per le prossime edizioni.